Salve a tutti. Ricorderete certamente il Vangelo di domenica scorsa, quando Gesù inviò a due a due i suoi discepoli, con il potere di scacciare gli spiriti immondi e l'invito alla conversione. Avrete anche notato che non disse loro di insegnare. A ritorno da questa missione, e poi disse loro di non portare bisaccia, pane, solo il bastone, non due tuniche, eccetera, tutte quelle caratteristiche importanti per manifestare esclusivamente il fidarsi di Dio e quindi della provvidenza. Bene, al ritorno riportano l'esperienza e quindi gli apostoli si riunirono attorno a Gesù per riferire a Lui tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ma cosa avrebbero potuto insegnare questi inviati se nemmeno loro erano veramente consapevoli di chi fosse Gesù? Avranno insegnato in quella modalità, con quegli elementi che erano più di carattere antico testamentario e non nuovo testamentario, quindi quel Gesù Messia quasi come a generare maggiori attese nella loro modalità di attendere il Messia, non quello che il Messia stava cercando di rivelare, di far comprendere. Questo è un dato veramente importante, al che Gesù li invita a venire in disparte con Lui. Venite in disparte, voi soli, e riposatevi. Avete fatto questa missione, ma in realtà non avete compiuto esattamente ciò che io avevo detto di compiere. Avete insegnato. Questo venire in disparte appartiene ad un concetto evangelico di quando si verificano situazioni di incomprensione, ostilità o addirittura opposizione a Gesù. Ma poi successivamente dirà ancora, in un luogo deserto. Questo luogo deserto è come se Gesù voresse far comprendere che per loro c'è bisogno di un nuovo esodo. Quell'esodo che ricorderete durò 40 anni. Forse c'è bisogno di un tempo lungo ancora per la comprensione del messaggio che Gesù voleva far comprendere. Quindi Gesù li allontana dalla folla, dalle aspettative della gente, e li porta in un luogo dove possono fare verifica, dove possano accorgersi che il loro insegnamento non era stato l'insegnamento di Gesù. Inoltre avevano creato probabilmente una tale confusione che le persone andavano e venivano, andavano e venivano. Vi dicevo, ancora una volta Marco sottolinea il fatto di averli chiamati in disparte e questo gesto destava sempre un po' di sgomento. Ma perché se ne vanno? Perché devono andare in disparte? Noi cerchiamo, noi vogliamo sapere, noi vogliamo vedere, noi vogliamo capire e questi se ne vanno in disparte? Erano talmente abituati a questo appartarsi di Gesù con gli Apostoli che ormai intuivano i luoghi dove avrebbero potuto trovarli. Tanto è vero che li precedettero a piedi. E quando arrivarono al porto di destinazione, Gesù scese dalla barca e trovò questa grande folla. Strano, notate, sceso dalla barca, non scesi, quindi gli Apostoli rimangono sulla barca, solo Gesù scende. Questa volta per non creare confusioni, questa volta per far sì che loro comprendessero qual era realmente la missione, cosa avrebbero dovuto fare, non certamente insegnare. E Gesù, sceso dalla barca, trova questa grande folla. E cosa succede? Attenti. Ebbe compassione di loro. Questa parola è una parola fondamentale, è una parola meravigliosa. Questa parola ha la lettera a che fare con l'utero materno. È un amore viscerale. Avere compassione significa avere viscere di madre. Dicevo, amore viscerale. È quell'amore che noi a volte lo definiamo amore di pancia. È, come dire, quello che ti senti dentro, quello che ti fa male, quello che ti coinvolge, quello che ti fa commuovere, quello che ti fa sgorgare un amore profondo. Insomma, è un qualcosa dinanzi al quale non puoi fare finta di niente, perché ti ha toccato e ti ha toccato nel profondo. Compassione, essere toccati dentro, fremito e interiore. Insomma, vedete quante definizioni per comprendere questo stato d'animo di Gesù. La stessa parola venne usata dal buon samaritano, che ebbe compassione di quel malcapitato. O anche il padre misericordioso, quando riabbraccia il figlio tornato ormai in condizioni davvero pietose. Ma Gesù si commuove anche di fronte al figlio unico della vedova di Nain, che era defunto. Oppure, ricordate, quel re che ebbe compassione per quel suo debitore che gli doveva una cifra spropositata. Ecco, allora, questo sentire dentro. Però questa è un'esperienza che non è legata a un sentimento, è legata a qualcosa di molto più profondo, di molto più forte. E perché Gesù ha questa compassione? Perché ha questa commozione profonda? Perché ha questo fremito per questa folla? Perché erano pecore senza pastore. Pecore allo sbando, pecore senza guida, senza riferimento. Lui che è il buon pastore, o meglio dire, il pastore buono, che si doveva distinguere, perché si doveva distinguere dal pastore cattivo. Tanti erano i pastori cattivi, tanti erano i cosiddetti mercenari che nel momento del pericolo fuggivano e lasciavano le pecore in preda alle bestie feroci. Che cosa fa invece Gesù? Gesù dona la vita, è pronto a dare la vita per la salvezza del gregge, è pronto a dare la vita per la salvezza delle anime, e questo farà, è proprio questo. Questa è la colui che ha compassione, è pronto a dare la vita. Come una mamma che è pronta a dare la vita per il proprio figlio, perché il figlio si salvi, perché il figlio viva. Posso anche dare la mia vita perché lui possa vivere. Questo ha fatto Gesù con noi. Ha dato la sua vita per dare a noi la vita, la vita vera, la vita eterna. E' così che dobbiamo intendere questa compassione, al che, avendo questa compassione, ebbe la forza e il coraggio di mettersi ad insegnare molte cose. Che cosa aveva dovuto insegnare? Ha dovuto insegnare l'amore, ha dovuto insegnare una mentalità differente, aveva dovuto insegnare quella mentalità delle beatitudini che facevano nuove le menti e di conseguenza le azioni di quella folla. Chissà quanto questa folla si è rimasta incantata da questi insegnamenti, chissà quanto ha considerato prezioso questo insegnamento di Gesù, chissà quanti semi sono stati gettati in quell'occasione e quanti frutti nel tempo, poi, sarebbero potuti arrivare a maturazione. Gesù non insegna dottrine per dominare le persone, ma si fa alimento, comunicazione vitale, che consente al popolo di vivere. Lui può insegnare il Padre, perché lui sa chi è il Padre, ne conosce perfettamente l'identità. Gli Apostoli non erano in grado di fare questo, commettevano ancora troppi errori, dovremmo aspettare la Pentecoste affinché avessero le idee completamente chiare. Non era bastata nemmeno la risurrezione. Allora, poniamoci in questo atteggiamento, è il nostro stile di vita che deve insegnare. Noi a volte non siamo chiamati a insegnare, ma a scacciare il male con il bene. Questo comandamento dell'amore è possibile viverlo in pienezza, tutti. E quando si vive il comandamento dell'amore si scaccia il male. E quando si scaccia il male le persone se ne accorgono e si possono convertire alla comprensione di questo Regno di Dio, di questo messaggio di morte e risurrezione, di questo messaggio di salvezza, di questo messaggio di un amore di Dio che si è fatto prossimo a noi e chiede solo di essere accolto. E questo l'insegnamento di Gesù, e questo quello che anche noi possiamo fare, perché non c'è bisogno di parole importanti, di parole esatte. C'è un bisogno maggiore di stile di vita, di esempio, di testimonianza. Rendiamocene conto. E anche noi, inviati da Gesù, dimostriamo di essere figli del Padre nostro che è nei cieli, con il nostro stile di vita, perché corrisponde alla realtà del Padre. E allora diranno che siamo figli, e in quel momento siamo gli annunciatori di una lieta notizia, l'essere figli di Dio, grazie al Figlio di Dio che ha dato la sua vita per la nostra salvezza e per la salvezza del mondo intero.